Cari cittadini di Caltanissetta, con l'introduzione della tariffazione puntuale promuoveremo un sistema di gestione dei rifiuti che non solo ridurrà i costi del servizio e garantirà un rimborso del CONAI per ogni rifiuto differenziato, ma avrà anche un impatto significativo sul decoro urbano e sulla pulizia delle strade. La tariffazione puntuale, col suo sistema di incentivazione al corretto smaltimento dei rifiuti, contribuirà ad eliminare gli abbandoni selvaggi e a mantenere puliti e ordinati i nostri quartieri e le nostre campagne. Inoltre, manterremo gli stessi livelli occupazionali di oggi, impiegando tutto il personale per migliorare il decoro urbano della nostra città, garantendo così un ambiente più vivibile e piacevole per tutti noi. Ridurremo i costi della discarica e attiveremo, con la collaborazione degli enti preposti, impianti per il recupero della materia prima, trasformandola in risorsa economica finalizzata alla riduzione della tassa sui rifiuti. Con la tariffazione puntuale diremo addio al fastidio del porta a porta. I cittadini potranno tornare ai cassonetti senza dover seguire i rigidi calendari di raccolta. Riutilizzeremo e integreremo i vecchi cassonetti che sono stati abbandonati.